La macchina delle elezioni europee si è ufficialmente messa in moto. Il deposito di candidature e programmi presso la Corte d'Appello di Napoli prosegue fino alle ore 20 del primo maggio, cioè fino al termine ultimo, per iscriversi nella corsa verso Bruxelles. L'Italia eleggerà 76 rappresentanti nelle 5 circoscrizioni in cui viene suddivisa la penisola. Il collegio elettorale meridionale comprende Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Non mancano gli irpini in campo, a cominciare dall'imprenditore, presidente dell'U.S. Avellino e sindaco di Monte Falcione, Angelo Antonio D'Agostino, già parlamentare della Repubblica. Forza Italia è stata la prima tra le forze politiche a depositare liste su tutto il territorio nazionale. Per il Partito Democratico da alcuni giorni si annunciava la candidatura di Francesco Todisco. Commissario del Consorzio, generale di bonifica del Volturno, indicato dal governatore De Luca. Per il Movimento 5 Stelle sarà della contesa elettorale l'imprenditrice del settore vitivinicolo Maura Sarno. Si annunciano due candidati irpini per Fratelli d'Italia, Ines Fruncillo, segretario provinciale, e Nicola D'Ambrosio di Bonito, giovane esponente di azione universitaria. Sempre di Bonito, ma su versanti opposti, quelli dell'Alleanza Verdi-Sinistra, è candidata Alessandra Mariano. La giovane è un'attivista del mondo LGBT+, impegnata per il rispetto dei diritti civili e nel campo dell'associazionismo. È membro del direttivo provinciale della Lega, è candidata a Bruxelles per il Carroccio, l'arianese Marica Grande. Sulle schede di voto gli elettori dovranno scrivere il nome dei candidati per votarli. In molte liste figurano anche big di partito e indipendenti a fare da traino, ma non è detto che proprio dalle aree interne non arrivi a sedere nell'Europarlamento qualche irpino con sorpresa di quanti immaginano il collegio meridionale molto vasto nel quale farsi eleggere. La corsa è appena cominciata, ha gli elettori il compito di partecipare e scegliere.